Siamo giunti alla sesta, tre anni sul miglio, sono in 11, 8 in prima, 3 in seconda, 2.41 Zizan per il momento, Antonio Di Nardo in salchi, il Gorniz, anzi la Gorniz affidata appunto a Di Nardo, mezzo meccanico che prende velocità. I problemi per il Tre Zucchero è proprio lei, la Zizan taglia corto, va subito al comando ma Zambesi ha le coste, le vuole strada, l'errore di Zì Maria. Allargo Zio Primo P, lancio in 13,6 e Zio Primo P si viene a presentare a chiedere strada sarà ancora un freeway poiché Zio Primo P con Agostino Castaldo va al comando e ora lunga fila indiana. 29,4 e 400, Zio Primo, Zambesi, Zizan, il 2 di Zaffiro e il 7 di Zanira. Risale il 6 di Zio, risalgono i ritardatari. 600 in 44,9 e Cavalli che affrontano la piegata, prende vantaggio l'allievo di Zio Primo P di Castaldo che va a completare il mezzo miglio iniziale in 1,1 e 3, 16,4 di frazione. Penultimo rettilineo, l'andatura è piuttosto brillante per la categoria, chiaro e netto vantaggio di Zio Primo, chilometro che se ne va in 16,7. 500 alla meta, poi Zambesi, Zizan, gli altri, Cavalli che affrontano la curva finale. La frazione di fronte è nell'ordine del 14,6, 1,31 e 3, 3 quarti di miglio. Si va al completamento della curva finale con il ghiaccio del nord ancora con buon margine. Zio Primo, probabilmente vuol tenere fede al proprio nome, questo Zio Primo. Zio Primo in vantaggio, liticano i due di Nardo, viene via la grande il 10 di Zeus Dec. Zio Primo per proprio conto, Zambesi è secondo e terzo probabilmente il francesino con Zeus Dec. Ma per il terzo conservate stretti, 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 stretti e biglietti perché c'è foto stretta, 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 bel primo piano di Zio Primo e con questo nome che cosa poteva fare? Voleva tenere fede a questo nome, Zio Primo, P. Secondo Zambesi e terzo probabilmente Zeus. Totalizzatore 3,16, 2,2,2, 1,16 e 4. Per il momento è tutto, linea allo studio.